Orso Marzo dice no all'Andrangheta, all'ingresso della sede comunale del piccolo borgo altotirrenico è stata fissa la targa a cui l'Andrangheta non entra. La scopertura è avvenuta stamane alla presenza del presidente della commissione della regione Calabria contro l'Andrangheta, nonché promotore dell'iniziativa, una targa contro le mafie, Salvatore Magarò. Il consigliere con delega alla cultura e al turismo Antonio Pappaterra è il primo cittadino Paola Maria Candia, che ha esaltato il valore dell'iniziativa accolta da una cittadina da sempre distintasi per onestà e tranquillità. Ora è una comunità integra, pulita, esistono qualche piccolo fenomeno, però nulla di che, nulla di grave. Certamente sono piccole comunità, non ci sono i grossi interessi che possono esserci nei comuni più grandi, nei comuni dove è più fiorente un'economia di tipo diverso, però è una società sostanzialmente sana. Ecco, quindi è più un atto simbolico? È un atto simbolico, un invito e un augurio a che si proceda sempre in questa direzione, andando avanti sempre verso la legalità, l'onestà, quello che peraltro stiamo facendo con tutte le nostre forze e tutta la nostra dedizione. Un atto di alto spessore culturale per il consigliere di maggioranza Pappaterra. È un messaggio più che altro culturale perché noi riteniamo che l'Andrangheta si combatte soprattutto nella testa della gente. È una questione di cultura, di mentalità, superare questo scoglio per fare in modo che la Calabria sia veramente una regione di libertà, una terra di libertà. Nel corso della cerimonia è stata anche consegnata una targa all'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Orso Marso, Angelo Marino, per la dedizione e il servizio reso alla comunità durante i suoi otto anni di permanenza. A chiudere la manifestazione l'intervento del consigliere regionale Salvatore Magarò, che ha toccato le recenti inchieste abbattutesi sulla politica calabrese e i correttivi per un risanamento della stessa.